Industria Sadebillai Industria Sadebillai Industria Sadebillai questa sostanzia è un udante in dinai pari sa 490 euros, frutto seguro dessa vendita dessa droga. I scarabineri sindanti sequestraudotto e ha subicciocco d'antivato costumengiano su processo all'estero in sui tribunali del Castello. Traballadorisi in preauso in entisi pubblicos. Dei lunisi, istraballadorisi in preauso in entisi pubblicos de Sardinia, anta essi sena copertura economica ne ha seguro. Ducomunica da sa secretaria regionali dei sindacca ausu, chiesti pensamento umano già di una scantugidasa, quando s'assessora o regionale a suo traballo, sesta tobia con s'assessora mura, può vuodare di uno cammino che aggiudessi di straballadorisi inchistioni, una mesura a vostra lei finanziaria che permettessi di agattare i sudanti o sostentare i progetti su de traballo un'ousu. Custa mesura, annai da s'assessora, d'anta probata, e lunisi chi benidi, sa da tobiai con i secretarias regionali si può allegare i dessa questioni. Su sindacca, Udeni, dissi spero che degusto a tobiai un dibessa da una soluzione quei straballadorisi che dispermita ad una segurezza minima, desi nunca, anna ossegura sa secretaria sindacali, deosa pesai donna avaina necessaria podo usamparai. Prantai canniu indico in Sardinia. In Sardinia puro, come in Puglia, sa da poti inghizzare i suoi progetti sperimentali con 450 mila euro su po' tre sannoso, che permette di debonificare i terreni a Toscauso prantendi canniu indico, che con mente nodio teni percentuali si baixa sa meta dei THC. Dunara sa finanziaria 2015, discute in consigli regionali e chiede approbato i articoli su Degiotto, Degiannoi, Degiannoi bis e Binti. In tre norma sa due vunti 600 mila euro su 200 mila po' anno, poi sanno su de su 2015 a su 2017, che serbi intabilai e controllai, secondo sobrano de Vainasa in zona sabrenasa de Nitrao di origine agricolo, approbato un delibera dei giunti regionali in su mese aprile del su 2006. Atero 540 mila euro su, funti possa discarrica de Carbonia e 255 mila possa debono. Dinaivo sa lingua azula. Sa regioni autonoma di Sardinia, addonavo a su comune de Carbonia, sa zoomavo su danno deppio a sa lingua azula. Po su 2015, su tanti in treo, esti de 93 mila euro su e ad essi donavo a 35 si endasa. Sa regioni indata bogai a coitto, un abiso può comunicare i dattasi maneras di arrembusso che s'antempreai o canno. Domus Popolarisi in Sardinia. Funti 2 mila i sardosi non a domo, ma po' uno scanto degussoso, funti lompendi 136 a posento Popolarisi in Ouso. Secondo i dati su dessa agenzia possedilizia Bividroja, è de 8 milioni di euro su tanti pagao di area ex IACP, possu patrimonio immobiliari, fatto de 26 mila a posento. A su minimo, su occupada abusiva, con su 0,03% in i distritos de Castello e Campitane in mezzo. Bintotta topo suscetti, antatenna bisogno dei fainas e dei sforza dei sordini, vogliosi liberai. E in su 2014, funti stetti 5 uscetti, iso occupadorisi, bogausa forasa. Bintotta topo suscetti, antatenna bisogno dei fainas e dei sforza dei sordini,